Io partirei subito con le Honorable Mention, dischi che è degni di nota, che però magari non ho avuto un affetto particolare nei loro confronti, oppure non li ho ascoltati abbastanza, non ho avuto modo e tempo di esplorarli al massimo, oppure mi sono piaciuto, appunto non mi sono ultra affezionato, magari mi sono piaciuto e non li riascoltati più di tanto. Il primo che dico è Scaring the Hose di JPEG Mafia e Danny Brown, questo è un disco, cioè proprio, cioè di base è un disco figo, anche io riconosco che è un disco fighissimo, però raga non mi ha preso quest'anno, non mi ha preso, ci sono alcuni brani che mi sono piaciuti, tipo Fentany Il Tester, Kingdom Hearts Key, eccetera, però è un disco che non mi è venuta voglia di, di cui non mi è venuta voglia di risentirlo più di tanto, però è, eh bro, JPEG Mafia, bro, JPEG Mafia è lo stesso, per me è uno degli artisti, più clamorosi al momento, cioè, tra i migliori, bro, fa roba malata, però, bro, è fortissimo JPEG Mafia, no, è proprio uno degli artisti, perché ci stavo pensando anche l'altro giorno, siccome anche Carty ha droppato, stavo dicendo, cazzo, no, Psichedelica, no, è molto, bro, un mix tra, lui è molto fan di Kanye West, si produce tutto quanto praticamente lui, però, bro, ha un modo di prendere i sample, flipparli, veramente, veramente fighi, ti consiglio di partire magari con LP, oppure con Veteran, oppure anche con Skitting the Hose, cioè, veramente, sono album pazzi, album pazzi, è veramente, artisticamente, è fortissimo, non saprei neanche, è un Kanye, è tipo un Kanye West, però più di internet, più, me, no, me, me, no, però, però è veramente forte, JPEG Mafia è veramente forte, stavo, infatti, appunto, stavo dicendo, ha droppato Carty, in sei giorni, stavo pensando, cioè, alla fine, adesso, chi sono i leader dell'hip hop? Che, secondo me, è Carty con questo disco, e Travis, eh, Travis lo è già, però è Carty con il nuovo disco che uscirà, secondo me, diventeranno i leader, proprio del genere, a livello mainstream, proprio esatto, cioè, non ci sono solo loro due, più nell'underground, invece, per me, i leader, cioè, gente che fa musica figa, innova, porta avanti la cultura, propone cose nuove, ogni volta si supera, o non ha paura di sperimentare, bla, 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 quelli che erano, magari, un tempo, i, i Futuli, i Yantaghi, i Kanye West, i Drake, i Kendrick, eccetera, 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 adesso, eh, dipende, dipende, se si muove bene, sì, si diceva la stessa roba di Carty, di Travis, anni fa, eh, diceva la stessa roba di Travis, secondo me, qua, adesso, Carty può fare quello che ha fatto Travis, magari con Astroworld, o con Beards in the Trap, e avvicinarsi, cioè, più che Beards in the Trap, con Goosebumps, eh, perché si diceva la stessa roba di Travis, te lo assicuro, eh, intanto, e però ha portato 80.000 persone a San Siro, cioè, no, a San Siro, l'ippodromo, eh, quindi sì, loro due leader, poi, JPEG Mafia e West Side Gun, invece, dell'underground, per me sono proprio i leader, cioè, proprio i leader del genere, attualmente, JPEG, Travis, Carty, West Side Gun, anche se non lo ascolto tanto, comunque, questo disco, fighissimo, purtroppo, non, non mi ha preso, però io riconosco che è figo, e merita di essere nominato, un altro è la High di Sanfa, che questo non ha avuto, l'ho ascoltato, ho ascoltato due o tre volte la prima metà, mi è piaciuta un sacco, mi manca totalmente la seconda metà, eh, però quello che ho sentito era fighissimo, quello che ho detto, ci deve essere per forza. Un altro, eh, deve, deve, dipende dal brano, io della Grisalda foto più con Benny, con Benny, cioè, Benny e Boldy James per me sono troppo, sono quelli che mi piacciono di più. Poi abbiamo, appunto, The New Play For Me di West Side Gun, un disco un po' altalenante, eh, che non è, non scorre benissimo, ci sono alcuni momenti un pochino così, poi lo stesso, questo non l'ho ascoltato tanto, però ci sono brani dentro, assurdi, dove Kitchen Lights, va bene, Freed, non c'è problema, non c'è problema, ci viacchiamo dopo. Appunto, ci sono brani come Kitchen Lights all'interno di questo disco, ma anche Costas, ma anche tanti altri brani, che ho detto proprio veramente fighi, poi ce ne sono altri un pochino più mediocre, che non mi fanno impazzire, o che non rendono l'esperienza dell'album super liscia, fluida e piacevole, e quindi, e quindi, e quindi, e quindi, e quindi non mi hanno fatto, non me l'hanno fatto mettere tra i miei dischi preferiti, però è figo. Poi abbiamo, Aspettando la Bella Vita di Artify, ma anche questo è un progetto figo, però per il quale non ho, o che ho ascoltato anche un pochettino, però per il quale non ho forti sentimenti nel complesso, e mi piacciono molto alcuni brani che ci sono dentro, appunto me, Annelli e Collane, però sì, non ho anche per lui un affetto tale da metterlo nella mia classifica personale, però merita uno shout out. Poi abbiamo il quinto emendamento della Homicide Gang, che in realtà non mi è piaciuto neanche più di tanto, però la verità me lo sono ascoltato, e ci sono dentro dei singoli molto fighi, molto fighi, però non è un album perfetto, però secondo me è comunque valido. Poi abbiamo Bewitched di Lefeux, non so come si pronuncia lei, questa è una roba veramente che non c'entra niente con il pop o il rap, come si chiama, si chiama bossa nova il genere, comunque è roba tipo Jets anni 50, 60, molto che ti dà vibes anche di Christmas, di Natale, non ti dico Michael Bublé, perché Michael Bublé è una barzelletta, però come si chiama il bianco che è famoso, che faceva le canzoni di Natale negli anni 50, 60, non è Vince Presley, c'era un altro bro, un altro bianco, che non dicono mica nel nome, comunque è un disco molto chill, molto figo, non ho ascoltato tanto, però quando l'ho sentito ho detto bello, 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 bello. Un altro è questo, Frank Sinatra, esatto, bravissima, Frank Sinatra, quello stile là, quello stile là, Jets, Bossa Nova, Canti di Natale, quelle robe là, per darvi l'idea della vibe. Poi un altro album che è stato figo, che ho scoperto un pochino prima dell'estate, tipo in aprile, maggio, con cui vibe avevo molto, era Audio Last e I Girl Loved S.G. Lewis, che non so neanche come ho scoperto. Eh, questo qua no, questo qua no purtroppo, questo qua no, perché non mi ha fatto impazzire più di tanto, però lo sono un po' ascoltato e ci sta, secondo me. Questo Audio Last e I Girl Loved è un disco tipo elettronico, però pop house, tipo, non so proprio come descriverlo, però c'è stato un periodo in cui me lo sono un po' ascoltato, mi dava delle belle vibes, soprattutto in primavera, con il sole, l'aria primaverile, ed è una bella vibe. Poi però non me lo sono ascoltato più di tanto nel corso del tempo, però qua non me lo sono ascoltato, veramente figo. Poi c'è Gara 7 di Geni Marsiglia, che è un disco che, come dicevo anche ieri, ho un po' combattuto all'inizio, però poi mi è piaciuto, che però allo stesso tempo non ho, ripeto, ascoltato tanto come avrei voluto magari, però secondo me meritava comunque uno shoutout. Poi abbiamo Still Running di Prachi, anche questo, ascoltato, piaciuto, ma poi abbandonato, dopo un po' per il quale non ho provato un grande affetto, diciamo, nel senso, e poi io vado, non so voi ragazzi, com'è Bella Bruce, Bella Bruce, buonasera Bruce. Sì, ho già iniziato. Sarai un attimo incantata la Dash, ho già iniziato, adesso sto parlando delle Honorable Mansion. Però sto dicendo, ah, non so voi ragazzi, com'è, tipo in base a cosa classificate i dischi, la musica che vi piace, io vado molto a il sentimento che mi fa provare. Cioè, più l'emozione è forte nei confronti e più sale in classifica. O poi ci sono vari parametri, tipo, magari ho avuto un'emozione forte ma non l'ho ascoltato più di tanto, poi là entrano magari in gioco alcuni fattori, eccetera. Poi abbiamo 3D Country di Gs, che, ripeto ragazzi, quest'anno io ho ascoltato Rap, sì, però ho anche ascoltato tant'altra roba. Superlucio, 4D Album dell'Anno, vediamo, vediamo. Per te, per te lo è però, bro. Se tu mi confermi che per te lo è. Però sono curioso di sentire anche altri album che magari, va che già ieri ne abbiamo un pochettino parlato, Lucio. Però, poi sono curioso di sentirne altri, magari, da parte tua. Una tua classifichina. 3D Country di Gs, che ragazzi, io non so veramente cosa sia, però è un mezzo rock, mezzo country. Mi ha dato proprio vibe di... Cioè, avete presente i GTA 5? quando giocate con Trevor? Che siete con Trevor e lui abita in quella roba... Quello di Ammo di Ieri? Pezzo dell'anno. Ah, non... Minchia, pezzo dell'anno è il peso. Avete presente il GTA 5? Quando giocate con Trevor, che lui sta in quella zona, tipo, mezza desertica, fuori lei, fuori Los Santos, vabbè, che ci sono tutte le casette. ecco, questo disco, 3D Country, mi ha dato totalmente quelle vibe. Totalmente. Però anche questo, mi piacciono molto alcuni brani, altri no, non più di tanto, mi lasciavano indifferente, poi non l'ho ascoltato più di tanto, però secondo me è un disco veramente figo, che mi è piaciuto tanto ascoltare. Poi abbiamo Quest for Fire di Skrillex, questo è un progetto molto figo, il ritorno finalmente in forma di Skrillex, elettronica, non fa più dubstep, mischia tante robe, qua dentro, ragazzi, ci sono dei brani clamorosi per me, come Butterfly, che già era uscita, ma veramente tanta musica elettronica figa, che mi ha gasato un sacco. Quest for Fire Skrillex è tipo elettronica, house, dubstep no, però è bro... Ah, che sito è? Scusami, che ho letto che genere, si chiama Music Board, si chiama Music Board questo sito, va, ti faccio vedere l'home page, aspetta, che poi ho paura che... roba, questo, vabbè, è un sito, si chiama Music Board, ci sono tanti album, fai le recensioni, ti fai le liste, fai le classifiche, come ti pare, aspetta, che faccio una roba, che se no, ho paura che... ci danno cose brutte, ecco, infatti, possiamo evitare di correre questi rischi, assolutamente evitare di correre questi rischi, no, è figo, molto figo, è un sito che volevo fare io, e poi ho scoperto che già esisteva, quindi... quindi, Skrillex, è un disco molto figo, però no, anche questo non l'ho ascoltato più di tanto, Globo di LA, lo stesso progetto molto figo, LA, veramente forte, recuperatelo, se non l'avete fatto, ascoltatevelo, che questo, bellissimo, ma non l'ho ascoltato più di tanto, abbiamo poi Grails di Pierre Bourne, Pierre Bourne, ragazzi, non so quanti li voi lo conoscano, beh, è un produttore di, della maggior parte di Dylite, di, di Playboy Carty, artista, a me piace tanto, ha droppato questa serie di tracce, che erano un po' liccate, un po' gli snippet giravano, le ha prese, le ha confezionate, le ha donate al suo pubblico, eh, no, non è scontato, però non è scontato, abbiamo poi Magic 2 di Nas, un progetto carino, che mi era piaciuto, quando è uscito, quando è uscito me lo sono ascoltato, in realtà per due, uno, due, tre giorni, mi era piaciuto, però poi non ci sono più tornato, però, progetto valido, poi c'è la Deluxe di 18k, eh, Grotto in versione inferno, anche questa l'ho ascoltata tanto, un po' che, un bel po' ha inizio, un bel po', un po' ha inizio anno, eh, eh, sì, infatti, infatti, va, Nas è una leggenda, Nas è una fottuta leggenda, veramente, magari che abito anche in Italia, i rapper avessero questa fame, a quest'età, eh, e droppassero così di qualità, più che altro, qualità, poi Grotto in versione si riflette, la Deluxe di Grotto, che aveva dei pezzi figli al suo interno, eh, che mi era piaciuta, però poi non ho ascoltato più di tanto, ah, vabbè, si va, 50 Cent ha fatto il primo disco, poi, basta, Nas, bro, Nas, cioè, bro, Nas, Poi abbiamo, Stupido Amore di Mekna, che, ho ascoltato la fine solo in live, però quando l'ho sentito, mi era piaciuto veramente tanto, poi non l'ho più sentito per i fatti miei, eh, veramente un disco figo, da parte di Mekna, secondo me, di quelli che ho ascoltato io, tra i suoi migliori, a mani basse, eh, però poi, boh, non l'ho sentito più di tanto, dopo la live, cioè, proprio non l'ho sentito a zero dopo la live, quindi, però, se merita uno shout out, stesso discorso per Cristi e Davoli, disco che mi è piaciuto un botto in live, ma non mi sono mai più ascoltato per i fatti miei, perare al contrario di Danny Five, stesso discorso, Wait Till I Get Over, è un disco, boh, black, che ho sentito un paio, due o tre volte, mi era piaciuto un botto, tipo blues, jazz, moderno, black music, malata, eh, però, se ho ascoltato poco, però, per quello che ho sentito, veramente figo, poi c'è l'EPDI Spice, che quando è uscito, a me era piaciuto molto, me lo ascoltavo, poi, anche su questo non ci sono tornato più di tanto, uguale, karaoke di Elon Mimi, e Pinkway ha fatto la cover, ha fatto le cover riarrangiate, riprodotte in modo molto figo, di alcuni, brani celebri italiani, che non ho sentito poi, durante il corso dell'anno, e poi abbiamo, NU di Bluem, Bluem è un artista sarda, che ha fatto un disco molto particolare, sta roba io l'ho sentita solo all'estero, qualcosa, roba tipo, non so poi come descriverlo, è proprio roba, neanche hyperpop, però, del mondo arcobaleno, glitch, hyper, cioè l'ho sentito ispirata molto a quello, oppure anche, a roba, non mi viene il nome, dunque un genere particolare, non saprei neanche descrivervelo, però io ho presente a cosa, a cosa fa, riferimento, però se volete qualcosa di chill, però sperimentale, glitchoso, eh non saprei, non saprei, da riaccorciano a quello, non so veramente cosa sia, però sentitevelo perché, sì, quello di Skrillex, è Electronic House Music, sì 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 sì, abbiamo poi 100 città mixtape, di Piccola Barsa, ragazzi penso, chi segue il canale, chi mi segue anche sui social, penso sappia chi, Gigi, Luigi Loi, Piccola Barsa, come un bel progettino, eh, merito di, che si merita uno shout out, lo stesso discorso per Blood Moon, PNR, che sono usciti all'ultima, in ultima fase dell'anno, ma che, ho trovato veramente bellini, veramente fichi, eh, eh, via, è vero, sì, tanto tanto che è tutto casuale poi, eh, per fortuna, e quindi niente, questi sono i progetti, che secondo me, erano molto fighi, però, che sono usciti durante quest'anno, e che ho ascoltato, ovviamente quello che non c'è qua, non l'ho ascoltato, oppure magari è nell'altra classifica, chi lo sa, eh, e niente, non so quanti di questi progetti, per voi, abbia, sia finito in classifica, fatemelo sapere, in caso, in chat, tornate poi ne discutiamo anche di più, ulteriormente, le approfondiamo, e via, metro di giudizio, ripeto, io sono curioso di sapere quale sia il vostro, ci sono, è un mix di tutto, ci sono sia italiani, che esteri, e proprio gli albumi in generale, che più mi sono piaciuti quest'anno, e che più ho ascoltato, non so appunto voi come li classificate, gli ischi, io vado molto a sentimento, quante tracce ci sono, che mi piacciono, adesso vedrai, adesso vedrai, adesso vedrai, non ho fatto proprio, non ho fatto esclusione, ho messo tutti quelli che mi sono piaciuti, particolarmente, iniziamo con l'ultima posizione, ma comunque, sono tutti dischi validissimi, non c'è un peggio, un meglio, sono tutti progetti validissimi, ultima posizione, numero 33, abbiamo Madre Perla di Guè, questo è un progetto, uscito a inizio anno, che abbiamo reactato in live, non è finito nell'Eonorable Mansion, perché a me, ha genuinamente piaciuto tanto, tanto no, abbastanza, abbastanza ci sono dentro dei brani, molto 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 fighi, a mio avviso, come quello con Massimo Pericolo, quello con Mahmood, quello con Benny the Butcher, è veramente un progetto di pericolo, che io ho detto cazzo figo, c'è Respect per Guè, ci sono un po' di brani che mi puzzano, tipo, che non mi piacciono, tipo Mollami, oppure, Cookies and Cream a me non lo fa impazzire, però lo stesso, un progetto valido, che mi è piaciuto, mi sono ascoltato, per i fatti miei, eh, ci sta, ci sta, ma per la di Penalognio, non è ai miei gusti, quello là, wave un po' reggi, eh, e via, però, bella per Bassi, che ha cacciato delle belle, see you tonight, see you tonight, no, ci sono brani veramente, fighi, fighi, fighi in sto disco, Mollami parte 2, ah, c'è in questo album, cioè, Mollami parte 2, 32esima posizione, abbiamo Zolfo di Taxi B, anche questo è un progetto che, ho ascoltato in realtà anche poco, e che rischiava di finire in honorable mention, però per quello che l'ho sentito, ragazzi, a me è piaciuto un botto, cioè, mi è piaciuto veramente, veramente tanto, ho apprezzato tanto Taxi qua, i rischi che si è preso, il voler, mischiare tutti i suoi generi, e tutta la musica che gli piace, tutte le sue influenze, l'ha fatto, tra l'altro, secondo me, molto bene, veramente molto bene, i brani sono strafighi, e quindi, l'ho apprezzato veramente, un botto, e quindi finisce al 32esimo posto, della mia classifica, veramente, bomba di progetto, che anche questo, ci avrei voluto sentire molto di più, è un disco super, ultra, mega, iper variegato, bro, cioè, veramente, ha mischiato, hanno fatto un sacco di generi, li ha fatti bene, senti, bel progetto, sono contento che sia uscita una roba del genere in Italia, esatto, esatto, solo alcuni, alcune cose, ma, passi per il resto, cioè, tanta roba, 31esima posizione, abbiamo, Pizza Kebab volume 1 di Gali, Pizza Kebab volume 1 di Gali, anche questo progetto è uscito recentemente, che mi è piaciuto un botto in live, cioè, che mi è piaciuto un botto, veramente, brani, e ragazzi, cioè, quello che c'è sopra, mi è piaciuto molto di più, cioè, quindi ragazzi, potete capire cosa, cioè, se quello di Gali è al 31esimo posto, e mi è piaciuto, anche se devo dire la verità, riascoltandolo, non mi è venuta a volta voglia, di riascoltarlo, overall, per i fatti miei, andavo solamente in brani, come Paura dell'Ira Milano, quello con Simba, quello con Luque, quello con, con Digitalastro, proprio, i brani quelli più chill, cioè, un disco su cui ritornerò magari in futuro, però non era una vibe, a parte quei brani singoli, tipo appunto Selini, che era la mia vibe, soprattutto di quest'anno, gli altri, non li ho ascoltati poi più di tanto in privato, però, rimane un progetto, comunque mi è piaciuto molto, molto figo, Bella per Gali, poi ne abbiamo parlato anche ieri, abbastanza di, di questo progetto, con Marco di Luke and Trap, quindi, top. Trentesima posizione, abbiamo Non Regular Music, di Sad Tours, e Kid, questo mi è piaciuto anche di più, di Pizza Kebab, volume 1, e più che altro, la roba che secondo me, ha avuto anche più tempo per ascoltarlo, mi piace, mi piace anche come scorre, perché rimane abbastanza coerente, come progetto, cioè, alla fine, non c'è neanche, semplicemente, sta sopra Pizza Kebab di Gali, perché l'ho ascoltato di più, ho avuto più modo di sentirlo, c'erano magari dei brani che, su cui sono ritornato di più, ma anche per un fattore di tempo, però li metterei, cioè, sono praticamente allo stesso livello, per me, anche perché poi, a livello, come si dice, a livello di produzione, non, cioè, è guidato più o meno dagli stessi, dagli stessi ragazzi, eh, a me è piaciuto veramente tanto, soprattutto i brani quelli dove ci sono, dove c'è Artify, bro, io, quelli sono belli ascoltati, mi ha gasato un botto, ok, queste, queste sono, trentisima, eh, entriamo nella, top, 20, adesso, mi pare, top 30, sì, puntino, bravo, puntino, bro, è una hit assurda, puntino, è una hit assurda, adesso, arriviamo alla posizione, 29, e abbiamo Tectililteca, questo è un disco che, inizialmente, era un botto più in alto, era un progetto che mi ha gasato, veramente tanto, quando è uscito, forse potrebbe, ma volendo potrebbe calare ulteriormente, ora che lo guardo anche questa classifica, potrei metterlo addirittura sotto zolfo, però, è un progetto che la verità a me è piaciuto, c'è stato un periodo che ce l'avevo in loop, ci sono dei brani veramente fighi, come Heaven in Art, quello con Ken Carson, Fire Under Leaves, si chiama poi l'altro, quello con Street Fighter, no, non Street Fighter, quello che aveva, comunque, dei brani veramente fighi, però, però, sì, alcuni brani invece, non mi piacevano molto, non ci sono tornato tanto, però, lo stesso, un progetto valido, che mi sono ascoltato per un bel periodo, e quindi, secondo me, ci stava, esatto, ha brani inutili, più che altro, ha brani inutili, che non aggiungono tanto, però, come progettino, è molto bellino, molto figo, secondo me, è uno dei suoi progetti migliori, comunque, poi, mi piaceva molto Tecca, poi lo abbandonai, perché aveva iniziato a fare i mid, prossima posizione, 28, abbiamo, 10,000 Gags, degli 100 Gags, anche questo è un disco, un po' strano, un po' particolare, un po' sperimentale, non so quanti di voi, conoscono gli 100 Gags, però, è un disco pazzo, molto internet glitch, poi c'è roba, è un po' rock, veramente, un disco, divertente, sì, allora, era più hyper pop il primo, perché qua mettono, mischiano un sacco di generi, qua mischiano un sacco di generi, non si chiudono in un corner, e le canzoni sono veramente, uno fighe, due divertenti, cioè veramente, un gran bel progetto, che per un periodo, mi sono ascoltato per un bel po', e poi sul quale non sono tornato più di tanto, però brani, bro, veramente divertenti, ce n'è uno che tipo, racconta la storia di una rana, ce n'è uno, c'è uno che racconta, tipo di una rana che si innamora di un'altra rana, o roba del genere, non ho acqua dietro a portata di mano, però poi vado a prenderla, ce n'è uno che racconta la storia, della tipa, della cantante, che si è fatta rimuovere il molare, cioè, veramente, e poi fatto a livello musicale, in maniera molto figa, bellissimo disco secondo me, tra i migliori di quest'anno, anche oggettivamente direi, e via, quindi, posizione 28 sta, sta nella posizione numero 28, 27, posizione numero 27, abbiamo questo disco, di Cara Jackson, che si chiama, Why Does Heart Give Us People To Love, che anche questo, in realtà, non ho ascoltato tanto, però per quanto l'ho ascoltato, quando l'ho ascoltato, mi ha, forse anche quello, forse potrei mettere, potrei scambiarlo, con il disco dei, Under Gags, alla fine, quello di loro, l'ho ascoltato di più, forse è un po' un, un, un bias, visto che l'ho ascoltato più recentemente, questo di Cara Jackson, però è un disco folk, eh, questo non è proprio, né rap, questo è, ragazzi, folk music, musica folk, molto chill, a tratti cupa, non lo so, se avete voglia, molto, molto autunnale, molto autunnale, non so come descriverlo, cioè, l'unica parola che mi viene in mente, è autunnale, però molto bellino, contesti molto interessanti, però, cioè, non è un disco da questo canale, diciamo, è un disco più da Nicola, che da Nikito, più, più Nicola, che Nikito, questo disco di Cara Jackson, nel caso, datteli uno spin, e allo stesso, più che altro, anche poi non l'ho approfondito, più di tanto, quindi non ho neanche tanto, da dire a riguardo, però per quello che ho sentito, mi era piaciuto veramente un sacco, e quindi in questa posizione, eh, numero 26, abbiamo, Motivation for the Streets, di Rondo e Rt5, anche questo ragazzi, potrebbe esserci anche un po' di questo, di bias, dovuto al fatto che l'ho ascoltato recentemente, però, come ho detto anche ieri in live, uno dei rischi più fighi di quest'anno, no, Nic, non è per niente la tua vibe, non è per niente la tua vibe, eh, una roba, ma neanche matura, però ti deve piacere il genere, un certo tipo di vibe, eh, una roba particolare, folk, appunto, appunto, posizione 26, abbiamo Motivation for the Streets, di Rt, e Rondo, appunto, disco, che mi è piaciuto veramente, veramente tanto, tra i miei preferiti italiani, di quest'anno, mamma di basse, progetto veramente figo, veramente figo, niente, quello che è da dire, in realtà, l'ho già detto abbastanza, durante la reaction, nei social, di The Naxle, di ieri, quindi, sapete un po' come la penso, su questo progetto, veramente, contento che esista, e che mi abbia fatto, godere così tanto, posizione numero 25, abbiamo Afterlife, di Yeet, Afterlife, di Yeet, che in realtà è un disco, con un po' mi combatto, perché ci sono, un botto di, eh, sì, ci sta, ma hanno spaccato bro, hanno spaccato, hanno spaccato, alla posizione 25, abbiamo Afterlife, di Yeet, disco con il quale, appunto, ero un po' combattuto, perché, ci sono dentro, dei brani clamorosi, tra, veramente, fuori di testa, però purtroppo, è anche pieno di filler, però bro, quei brani, che spaccano, spaccano in maniera, in maniera fuori di testa, ok, poi, poi questo è stato, l'album, che mi ha fatto, finalmente entrare, nel mondo di Yeet, me l'ha fatto apprezzare, posizione numero 24, abbiamo Pink Tape, di Lil Uzi Vert, questo qua, è il progetto di Lil Uzi, che io preferisco, che più ha, che più, che più apprezzo, nell'ascolto, nel suo ascolto completo, è un disco, un album valido, secondo me, poi col tempo, cioè, mi errebbe aggasato molto, quando era uscito, poi col tempo, non ci sono più tornato, più di tanto, però, ci sono stati, dei brani, che mi sono piaciuti, veramente, un sacco, che un periodo, ce li avevo in loop, come ad esempio, Pluto to Mars, Rehab, oppure, vediamo un po', Pink Tape, vediamo i brani, così vado, a memoria, Flood of the Reface, si sta, Suicide Door, se figa, è più, allora, non mi è piaciuto molto, nelle robe rage, però, quelle più, quelle più, sperimentali, tipo, Amped, Spin Again, comunque, ci sono una serie di brani, veramente, bellini, secondo me, e niente, mi dispiace, che sia stato, anche, recepito, un po', negativamente, a me fa cagare, vedi, Aie è una di quelle che mi fa cagare, è proprio banale, banale, banalissima, a parte che poi la strofa di Travis è veramente pietosa, e mi sta pure sul cazzo che abbia perso, abbia fatto quattro slot di canzoni a Milano, Travis dedicate solo ad Aie, Aie che era uscita quel giorno, molta gente neanche la conosceva, vaffanculo, però per il resto, bel progetto di Uzi, che mi è piaciuto, devo dire, poi, collegandomi a Yeet, secondo me Yeet, anche per i brani come quello che vi ho fatto sentire prima, attualmente è sopra Uzi, a Mani Baccia, tranquillamente, infatti sono stra curioso del progetto nuovo, stra curioso, però secondo me Pink Tape scorre molto meglio, come album, funziona molto 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 meglio, e niente, quindi bella Peruzzi, Pink Tape, ho fatto il mio suo disco preferito, e però col tempo, con il quale, cioè col tempo non ci sono tornato più di tanto, se devo essere sincero, però bella là, bella là, e poi, 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 poi cosa abbiamo? Ah ok, poi abbiamo My 21 Century Blues, quindi sono lo stesso, questo che ho ascoltato molto inizio anno, di Rai, è che è una cantante pop R&B, diciamo, ha fatto un disco, secondo me, di quelli pop, R&B, cantati, veramente fighi, è che mi dispiace, anche questa non ci sono tornato più di tanto, perché poi vabbè, io mi sono bruciato il cervello con la Rai, quest'anno, avete visto anche la classifica, dei miei brani più ascoltati, però, vedi, Rai, secondo me, è una che ti potrebbe piacere, Nick, perché è veramente un artista, forte in culo, cioè, se ti piace magari la roba più chill tipo Sisa, eh, sì bro, io ho, ma prima di meno, quest'anno ragazzi, più che altro perché le uscite rap, secondo me, sono state veramente scarse, e infatti tutto quello che è in classifica, a parte alcune robe, a casi singolari, tipo Yit e Uzi, sono tutte robe uscite a fine anno, sono tutte robe a fine anno, comunque Rai, recuperatelo ragazzi, se vi piace comunque anche roba tipo Sisa, o Rihanna, che cosa ne so, cioè, volete, anche quello stile pop chill, R&B, però, fatto bene, veramente, disco, disco della Madonna, mi dispiace che, no, in realtà i numeri li ha fatti, però non se ne è parlato online, più di tanto, e mi dispiace veramente un sacco di questa cosa, però, album della Madonna, secondo me, veramente bello, andatevelo a sentire, questo rispetto a quello di Cara Jackson, secondo me, potrebbe cliccare di più con voi, 22esima posizione, abbiamo L'amore di Madame, che inizialmente, era uno tra i miei dischi preferiti dell'anno, vabbè, col tempo, con nuove uscite, nuovi ascolti, poi lo stesso, un disco, abbastanza complicato, un po' criptico, che non ho capito neanche al 100%, Sisa, Sisa è SZA, SZA, E' Lucio, ma perché, perché, cioè, non è neanche rap, una roba, cioè, non saprei neanche come descriverla, questa roba che ha fatto Madame, però, quando l'ho sentita, io ho detto, mi ha flippato, ho detto, cioè, Madame ha veramente fatto una roba del genere, perlomeno musicalmente, ho detto, wow, 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 veramente, è uno dei dischi migliori in generale, italiani di quest'anno, ma anche degli ultimi anni, non ho molto apporto, come ieri, non ho molto da dire riguardo, perché è un disco per me, anche abbastanza criptico, però, mi è venuto veramente, un sacco, per quando lo ascoltavo, e quando, e quando lo ascoltavo, veramente, mi faceva godere, della Madonna, e c'è un brano che, il mio vecchio maestro, che è, però, uno dei dischi, dei brani più fighi di quest'anno, è ricordato, mi ha dato un botto di vibe di, 808 and Art Break, eh, anche perché le tematiche sono molto, tipo, identità di genere, propria sessualità, anche il rapporto, magari, no, femminismo, no, però, comunque, quelle tematiche là, no, il mio vecchio maestro, sembra quasi, un brano d'amore, in realtà, inizio pensavo parlasse, tipo, di un maestro, che molesta, che molesta, alla sua studentessa, però in realtà, non era così, però, comunque, in generale, è un progetto veramente figo, veramente, a mio avviso, in realtà, in realtà, potrei sostituirlo, con quello di Ray, perché poi, quello di Ray, in realtà, l'ho ascoltato di più, potrei anche switcharlo, mettere 22 Ray, 23, Madame, però, in generale, perché l'ho ascoltato, alla fine, anche, forse di più Ray, eh, e niente, però, comunque, sono tutti progetti, fighissimi ragazzi, posizione 21, abbiamo, cultura di disgusti, c'è lo stesso, questo è uno dei progetti italiani, più fighi di quest'anno, più fighi, mi è piaciuto veramente un sacco, vibe assurde, il progetto migliore di disgaccio, bro, mi ha dato anche a livello umano, ma ci stava anche come P, ci stava come P, a livello umano, mi ha dato veramente tanto, perché mi ha fatto proprio gasare, mi ha dato un sacco di positività, mi ha dato motivazione, credere nei miei sogni, impegnarmi, energie positive, veramente, un disco che mi ha fatto prendere strabene, mi ha dato un sacco, poi nel corso del tempo, non ci sono tornato più di tanto, però, veramente, veramente figo, mi è piaciuto veramente tanto, sto progetto di gaccia, bella per lui, bella, bella per lui, poi, posizione numero 20, abbiamo Utopia di Travis Scott, in realtà, potrei metterlo anche, Gaccia, se potrei metterlo sopra, Utopia di Travis Scott, disco molto figo, molto figo, io sono molto affezionato, cioè, affezionato no, però mi piace un botto la prima metà di questo, di Utopia, la prima metà fino a Finn, fino a Finn è veramente per me un disco clamoroso, poi dopo Finn, secondo me, perde un pochettino, inizia ad essere altalenante, infatti, io, quando, tutte le volte che lo ascolto, mi fermo a Finn, poi, mi fermo a Finn, perché, quella run di tracce, sono le mie tracce preferite del progetto, poi ci sono, ce ne sono anche alcune dopo, però si susseguono in un modo che non mi piace più di tanto, e che anche mi ha ammazzato un pochettino il replay value, però, detto questo, discone di Travis Scott, disco clamoroso, oggettivamente, stiglissimo, merita tutto il praise che, chi ha, non è un disco perfetto, però, veramente, tanta tanta roba, Travis l'ha rifatto, bella per lui, quindi adesso siamo praticamente entrati nella top 20, nella top 20, esatto, fin, esatto, sì, sì, e a me, le prime, a me è un botto le prime, tipo quella con Tiso, quella con KC, Thank God, che esatto, è Thank God, Thank God, Tum, 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 bomba, 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 poi abbiamo, numero 19, Umile di Tony Boy, ragazzi, Umile di Tony Boy, mi è piaciuto più di Utopia, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, quest'ultimo periodo dell'anno, c'è stato, c'era un bel periodo come, eh bro, ma perché sopra bro, c'è altra roba, Modern Jam, esatto, però sopra c'è altra roba, altra roba, poi io non sono, io parto che non sono un grande fan di, di Tony Boy, però con questo disco mi ha veramente sorpreso, è un disco che, è un disco che vorrei prendere in vinile, nell'ultimo periodo dell'anno mi ci sono affezionato, mi è piaciuto veramente tanto, pieno, secondo me appunto, a livello oggettivo il miglior disco italiano uscito quest'anno, eh, cazzo la dire a riguardo, bella per Tony Boy, grazie anche a voi che mi avete aiutato a farmi centrare dentro, farmelo scoprire per bene, spronato a sentirlo, eh, bella per Tony Boy, bella per Tony Boy, veramente super progetto, per quello che, ce l'ha da dire, l'abbiamo, posizione numero 18, e adesso inizio anche a dimenticarmi un po' le posizioni, ah ah ah, per questo avrò cucinato, per questo avrò cucinato, per il numero, posizione 18 abbiamo, Mansion Music di Trippi Red, progetto super iterato, anche per buoni motivi, diciamo che Trippi non si è messo nelle condizioni migliori per, per, per fare apprezzare, subito, mi dice che ti va, eh ma lo sai perché, il problema che avevo io con sto progetto, è che c'è stato un periodo, che io ste cuffie, ce le avevo settate male, lo periodo c'evo le cuffie settate male, e quindi molte robe, mi, mi, mi suonavano male, mi suonavano male, a parte in alcuni generi, eh, poi le ho sistemate, e un sacco di musica ha iniziato a suonarmi molto meglio, e purtroppo Umile è stata, è stata ascoltando in quel periodo là, in cui a me non funzionavano bene le cuffie, e quindi c'erano delle robe tipo i beat, perché a me, ricordo, mi erano più tutte sempre, da sempre le performance di Tony, ma le basi mi non mi piacevano, e poi ho sistemato il tutto, e via, eh, ho imparato ad apprezzarle, e quindi era un problema più che altro tecnico, diciamo, di giudizio nella posizione, Mission Music, verrò cucinato, però a me sto disco, in buona parte, è piaciuto un botto, soprattutto a inizio anno, ce l'avevo in loop, mi ricordo, c'è stata la sessione invernale, io me l'ascoltavo quasi tutti i giorni, mi svegliavo al mattino, me lo mettevo, andavo come un martello, in aula studio, a studiare come un pazzo, con tutta questa musica, che mi caricava, non è un progetto, purtroppo, secondo me, ha un potenziale assurdo, che però ha troppe tracce, ha troppe tracce, molto spesso dei feat inutili, come quello di Rich the Kid, ma anche altri, anche altri, però bro, ci sono dei brani, veramente fighi in culo, secondo me, anche di stile rage, veramente fighi in culo, cioè, che a me sono piaciuti, veramente un sacco, ultra martellanti, produzioni della madonna, trippy abbastanza, l'ho trovato abbastanza in forma, poteva anche fare di meglio, forse lui, però, sì esatto, ha anticipato il sound del 2024, visionario no, perché comunque lui, girando e stando vicino a certi artisti, sicuramente ha sentito anche robe in anticipo, un po' la baitata, però peccato anche perché, poi si diceva che era uscito così in anticipo, perché era stato liccato, perlomeno l'avevano preso dei leak, che l'avevano minacciato di pubblicarlo, allora l'ha pubblicato lui, quando ancora non era completo al 100%, però poi col tempo poteva sistemarlo, ribrandizzarlo eccetera, non l'ha fatto, poi le altre uscite di quest'anno di trippy, erano veramente, no, però questo secondo me è un disco non perfetto, ha alcune cose grave, tipo anche il mix, cioè ragazzi, Crazy Train con Travis Scott, è imbarazzante avere nel disco l'attacco di Travis, che ti si, col mix tutto così sciolto, messo male, cioè quello proprio tecnico, un disastro, però brani come quello con Lee Dirk, quello con Future, eh esatto, poteva farlo, non l'ha fatto, quello col Nardo Week, quelli con Lil B, no, brani veramente fighi in culo alcuni, quelli con Chief Keef, veramente bomba, quindi a me è piaciuto un sacco ragazzi, quindi via. Posizione numero 19, abbiamo Così Ghiacciato Tony di Tony2Melee, Così Ghiacciato Tony di Tony2Melee, ragazzi, questo mi ripeterei, sapete cosa penso di Tony2Melee, sapete cosa penso di sto progetto, no no, penso non ho, non ho altro da aggiungere, veramente, bella per Tony, allora devo dire, inizialmente mi gasava, un sacco, anche questo poi, c'è stato un periodo, ma infatti, cioè non è prendere sul serio, la roba poi, cioè bro, devi un po' fottere con quella vibe, cioè devi saper stare un po' tra il serio e il non serio, non so come spiegarlo, vabbè, mi era piaciuto un po', l'avevo ascoltato un po' quando era uscito, per un periodo mi piaceva più del vero album, poi col tempo in realtà, i brani hanno perso un po' potenza nei miei confronti, sono tornato molto di più sul, sul, come si dice, sul vero album, sul vero album, per me è quello il suo progetto migliore, ma, cioè veramente assurdo, non saprei neanche come descriverlo, è un progetto della madonna, però qua secondo me è stato il progetto in cui ha, ha step appato, è il progetto in cui ha fatto quello step, bella Nick, bacioni, mi dispiace che devi andare, che devi andare, però ti mando degli applausi, grazie per esserci stato, come sempre, poi comunque ci ha aggiornato, sì sì sì, è un pickstay, ma poi sì ragazzi, cioè album, chiamoli progetti, chiamiamoli progetti, anche cultura non è più, però chiamiamoli progetti, i progetti più fighi, è il vero album, secondo me è disco serio, il vero album è album, ed è il disco serio, ed è il migliore, secondo me, proprio per, anche per come scorre, ecco, comunque così, chi ha ciò a tutti, secondo me è il disco che gli ha fatto fare, anche secondo me è quello step in più, perché ci sono più banger, più cantato, ha più appeal, è un progetto figo, ho speso anche, penso anche abbastanza parole in generale, nel corso dell'anno, per questo progetto, quindi, bomba, vela per Tony, prossimo disco, abbiamo For the Island, della Nuova Sardegna, anche questo era un po' combattuto, perché c'è stato, è arrivato un momento, che avevo anche sentimenti contrastanti, per questo progetto, perché c'era un periodo, che mi ero proprio affezionato, e poi mi sono un po' deaffezionato, però, per un bel periodo, per un, soprattutto d'estate, mi ha, mi ha accompagnato, mi ha accompagnato tanto, questo disco, immaturo in che senso, immaturo in che senso, cioè non è più che altro, secondo me è perfetto, poteva, non poteva essere meglio, cioè il mio problema più grande, più che altro è, con un paio di brani, che proprio non mi piacciono, eh, Where You Want, esatto, uno di quelli, più pazzi, eh sì, alla fine è un mixtape, è un mixtape di gruppo, e ognuno ha tirato, c'è un mix di robe, è un mix di robe, secondo me alla fine ci sta, l'unico problema per me, la tracklist, l'alternare troppo, roba melodica, banger, mi spezza, mi spezza molto l'ascolto, però ci sono brani singoli, che è, soprattutto quelli più magri, melodici, un periodo ero, ce li ascoltavo un bot, poi For The Island, la title track, è uno dei brani più, più figli all'anno per me, e via, quindi, disco della nuova Sardegna, un po' combattuto in realtà, però, cioè raga, disco figo, che mi sono pompato, ci sono brani veramente bomba, e via, abbiamo parlato poi anche ieri del progetto, però bomba, 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 poi, numero 15, entriamo nella top 15 ragazzi, entriamo nella top 15, eh esatto, sì, quello, ma, ma non lo sapete più che altro, secondo me ho anche un po', secondo me da un bel po' che non lo ascolto, cioè, praticamente da quest'estate che non lo ascolto, secondo me è anche un po', secondo me se lo riascolto, i sentimenti nei suoi confronti, ritornano forti, esatto, il disco di Gunna, album dell'estate, oddio, non lo so, perché poi d'estate ho ascoltato roba, però di quest'anno sì, cioè, di quelli usciti quest'anno sì, eh ma fuck you mean bro, è abbastanza overrated, secondo me ci sono brani molto più fighi, soprattutto nella parte finale del disco, cioè, a me piace un botto la parte finale del disco, andiamo a vedere un attimo, proprio lo stesso, il disco di Gunna, anche questo, c'ho un po' di, deaffezionato, ma perché poi, in questi ultimi mesi, non sono più tornato ad ascoltarlo, però, i sentimenti, e le emozioni che mi ha fatto provare, nel periodo in cui ce l'avevo, proprio in loop, ragazzi, io ero impazzito quando è uscito questo disco, ho detto, bro, Gunna ha fatto qualcosa di assurdo, la carabaglia non mi piace questo disco, sta cover di merda, secondo me è proprio brutta, eh boh, fuck you mean per me è un po' noiosa, più che altro, la nocci piccato, poi è diventata trend, e via, però, tipo, a me piacciono un botto, tipo i brani tipo, I don't know no more, payback, c'è Cash It, a me piace molto più di fuck you mean, poi c'è Bone Rich, Go Crazy, Brand and Butter, Turn Your Back, Turn Your Back forse è la mia preferita, I'm busy, you don't know, no ragazzi, mi vengo, penso, ai momenti poi, è stato sì, il mio album dell'estate, o perlomeno della sessione, di giugno, della sessione estiva, bello, 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 mi è piaciuto un botto, la verità, mi è piaciuto un botto, e quindi, sta nella top 15, eh ma io sono fan di Ganna, io sono fan proprio di Ganna, a me piace Ganna, sì, per me, per me è sempre sopra Lil Baby sta, forse nel periodo loro di Lil Baby no, però, cioè Ganna, ti fa provare vibes assurde, posizione numero 14, aia, aia, cosa abbiamo qua, forse dovrei mettere Ganna sopra, però abbiamo Trick or Treat volume 2 di Bruce, questo, allora, qua ci potrebbe essere un po' di bias, di, come si dice, di ascolti recenti, però è un disco, te l'ho detto frate, la reaction era real, è un disco che a me ha gasato, che mi sono ascoltato molto anche per i cazzi miei, adesso, forse sinceramente lo abbasserei un pochettino, ma più cazzo, perché guardando anche le altre robe, forse lo metterei sotto Mission Music, no oddio, forse non lo so, perché comunque, cioè, ho dei sentimenti, cioè, soprattutto quel periodo, negli ultimi mesi, belli legati a sto progetto, quindi, cioè, ci può anche stare come posizione, può essere che, a livello emotivo, è più forte, perché è più recente, e quindi ho sentimenti più video, però ragazzi, quella live di Halloween, per me è stata una figata, poi anche quando me lo sono ascoltato, per i fatti miei, a me è sincero, ha gasato, soprattutto poi quella run, quella run, che sai, che sapete, anche poi, per il canale, tu c'è, a me mi ha preso bene, mi ha preso veramente, ed è, ora forse, o lo metterei, o sotto ford, dovrei, in realtà dovrei ascoltare i progetti, però comunque, se non è 14, è in questa zona qua, e quindi bello, hai fatto un bel progetto, bro, mi ha gasato di brutto, e quindi, e quindi, e quindi ci sta, è finito la mia top dell'anno, poi, posizione numero 13, abbiamo, for all dead, Jogs, di Drake, con, la Scary Hours Edition, con la Scary Hours Edition, progetto che, che secondo me, appunto, è uno dei più figli di Drake, eccetera, tra i migliori, di questi album, a parte, tornando magari, onestly, nevermind, però album rap R&B, è uno dei migliori, di Drake, degli ultimi anni, poi con la Scary Hours Edition, secondo me, ha alzato ancora di più il livello, e niente, a me, a me è piaciuto, eh, bro, non hai ascoltato, for all the dogs, sì, c'è anche una parte col figlio, però, soprattutto, anche recentemente, da, da quando è uscito, ottobre, le parti, pezzi R&B, come ho detto poi, anche nella review, a me hanno preso veramente tanto, secondo me, tra i migliori brani di Drake, degli ultimi anni, e quindi, boh, ma alla fine, a me è piaciuto il disco, in generale, deve essere meglio, sì, però, secondo me, è un disco stravalido, da parte, da parte di Drake, oddio, forse, forse non so se più di ganna, però, boh, forse le canzioni, poi c'ho dei vari metri di paragone, perché poi guardo, anche io guardo la classifica, che dico, e penso, magari non posso mettere, Drake sopra o sotto, vabbè, ogni tanto poi, perché poi ogni giorno, mi cambia anche il sentimento, quindi, non lo so, anche perché guardandolo qua in mezzo, dico, boh, però anche questo, magari ha il bias, che l'ho ascoltato di recente, e via, allora, allora, e quindi sì, non ho molto da dire, se non che è un progetto che è, secondo me, molto figo, ne ho parlato anche già abbastanza, e via, posizione numero 12, abbiamo, back to the trap, di Lensi, di Lensi Fu, ok, qua, ok, finora ragazzi, ci sono stati, la classifica, era, è classifica, va in base al sentimento, però adesso dal disco, di Lensi in poi, si entra nel vivo, cioè, proprio che io dico, ok, per me la classifica, questi sono tutti, che c'erano fino a ora, che ho apprezzato molto, che mi sono piaciuti un botto, però adesso inizia proprio, la parte basata, cioè la parte che, che anche sono più confident, al riguardo, proprio i progetti, i miei top progetti, è veramente proprio, che dico, fino a ora, questi ci stavano, magari, sono stati, mi sono piaciuti molto, però, magari avevano sempre magari, delle criticità, oppure, anche delle insicurezze, in metterli in classifica, infatti mi avete visto Mario, ho detto, ah no, forse posso lo mettere di qua, quello che c'è ora in poi, non è così, cioè, adesso entriamo proprio, nel croccante, a partire da, Back to the Trap di Lensifu, uno, ragazzi, quest'anno con la Rage, mi sono veramente, rimbecillito, rincoglionito, ma ne sono felice, questo progetto, è fighissimo, bellissimo, pieno di distorsioni, pieno di sound malati, pieno di flow, performance assurda, la parte di Lensi, veramente super underrated, cioè, secondo me, bro, si parla addirittura più di Osamazon, di Rich Amiri, di sta gente qua, di Art Rock, di questi underground rapper, però Lensi è uno dei più forti a farlo, è uno dei miei artisti preferiti anche, non tra i miei assoluto, però, mi fa impazzire a me Lensi, mi fa impazzire, però devo dire, all'inizio era molto più in alto, col tempo però, la verità, sono tornato più su alcuni singoli, che sul progetto nel complesso, quindi questo l'ha fatto abbassare un po' in classifica, rispetto ai progetti che ci sono sopra, però, veramente, per questo, cioè, da qui in poi sono tra, per me, gli album dell'anno, cioè, anche questi lo so, anche gli altri lo erano, però, avete capito, dai. Posizione numero 3, di 12, di 11, oddio, sto già tutto cucinato, abbiamo Work of Art, di Asaki, questo è un album, Afrobeat, Asaki è un artista della Nigeria, è questo, è Made in Lagos, di, che però è del 2021, se non sbaglio, di Wizkid, sono stati i miei album dell'estate, è un altro disco che vedremo dopo, sono stati i miei album dell'estate, io quest'estate, da maggio, giugno in poi, sono andato full Afrobeat, poi con alcune eccezioni, tipo, Ganna, Nuova Sardegna, eccetera, eccetera, Asaki fa veramente un Afrobeat malato, dai sound veramente malati, cioè, musica per l'estate sì, però, ci aggiunge anche qualcosa di suo, di sperimentale, artista della Nigeria, questo disco è, veramente, figo in culo, figo in culo, mi è piaciuto un sacco, giusto l'unica pecca, che ci sono, Anna Niki Savage, minchia bro, io li è, madonna bro, si è voluto male, però, no, spaccano, però, però ci sta, eh ma perché io, poi dipende, poi dipende, la musica è strana, perché poi dipende anche un po', in base alla routine delle persone, perché, tendo in giornata a passare, molto tempo da solo, ma perché, perché, vado in aula studio, vado a studiare, e poi nei tragitti, mi ascolto la musica, cioè, quando non sto studiando, sto ascoltando musica, carattere speciale, ah, d'estate, ok, carattere speciale, lo stesso, era un album figo dell'anno scorso, però non ci sono tornato tanto, non è, cioè, ci sta come progetto, ma non è a livello delle basi, assolutamente, eh, ma ci sta, ci sta, però, però per i cazzi tuoi, tipo in cuffia, io c'ho sempre questa in testa, vai, però ci sta, eh, Walk of Art di Asaki, magari adesso non è il periodo, però per la prossima estate, ma anche primavera, dateli un ascolto, perché è un progetto veramente figo, e niente, quindi, Walk of Art di Asaki, veramente, bel disco, bel disco, però, aveva qualche pecca, e ci sono progetti che ho preferito, come, quello in posizione numero 10, che è, A Great Chaos, di Ken Carson, ragazzi, dai, qua, Ken Carson ha dropato un gran bel disco, niente da dire, niente veramente da dire, ci sono brani, della Madonna, non è perfetto, eh, non è perfetto, però, è uno dei dischi più fili, quest'anno, c'è un cazzo da fare, eh, ci, ci può stare, ci può stare, ci può stare, che, sì, ci può stare, perché anche a livello di immaginario, c'è stato, un progetto veramente figo, ben curato, eh, brani della Madonna, proprio, brani Rage, porca troia, poi avete, la reaction ce l'avete presente, eh, ha carriato Opium, esatto, ha dato, ha dato carriabilità a Opium, eh, sì, ed è oggettivamente, uno dei progetti, se non il progetto Opium migliore, eh, poi a livello di preferenze, personali, io, cosa ne so, preferisco anche di più, preferisco uno stylist, perché ci sono i brani, che poi ci sono i nostalist, hanno una roba in più per me, però, overall come progetto, a Great Chaos, veramente, veramente figo ragazzi, cioè, Fighting My, non devo stare neanche qua, a dirgli i titoli dei brani, esatto, esatto, anche uno, il video di Fighting My Demons, veramente, fighissimo, veramente, fighissimo, bella perché, poi me lo sono riascoltato, anche l'altro giorno, ho detto, mi caghe, ha fatto veramente un discone, quindi, decima posizione, a Great Chaos, di Ken Carson, bella, è stata veramente, una bomba, posizione, numero 9, quindi adesso siamo entrati, nella top 10 ufficiale, ragazzi, numero 9, a, something to give each other, di Tracy Van, non so quanti di voi, conoscono Tracy Van, o questo disco, comunque, molto probabilmente, sarà così Bruce, 2024, è già, predictata la classifica, ora non predice, penso, a meno che, sorpresa in negativo, lo spero di no, posizione numero 9, abbiamo, something to give each other, di Tracy Van, che è un disco, come lo posso definire, house, house, tendente all'house, non so, non so, non so, non so identificare il genere, però, pop house, LGBT, non so come dire, colorata, però, in realtà, poi, brani house, dance, anzi, più che house, dance, è dance, perché il bro ci canta sopra, dance, LGBT, dance, arcobaleno, dance, arcobaleno, però, bro, cioè, io, un disco, anche questo l'ho ascoltato, abbastanza recentemente, però, bro, tutto il disco, secondo me, sono dieci tracce, tipo, ma scorre benissimo, scorre benissimo, cioè, sono un paio di hit, ma anche dei brani, un pochettino diversi, perché inizia a bomba, e poi, a livello di ritmo, perlomeno, cala, nel senso che diventa più tranquillo, oppure, entrano dei suoni, diversi, però, veramente, un disco che a me è piaciuto, veramente, tanto, ogni volta che lo disco, ho detto, minchia, figo in culo, questo disco, è rente figo, rente figo, dall'inizio alla fine, eeeh, hitta, eeeh, fare l'alternativo, eeeh, true, sono gay, va bene? Lo devo ammettere? Lo devo ammettere, cazzo, anche a un etero, può piacere la musica da gay, non c'è niente di male, però, però sì, però sì, esatto, con questa sciarpa, poi, esatto, sono super in character, sono super in character, da parte gli scherzi, secondo me, un disco, un disco figo, che consiglio comunque, in generale, di ascoltare, se si vuole amare qualcosa di alternativo, dal rap, Bruno Barbieri, bro, mi offendo, però che ho andato a Bruno Barbieri, è male, quindi sì, un disco figo, 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 che anche questo, vi consiglio di recuperare, perché secondo me, è abbastanza appetibile, un po' da tutti, soprattutto se ti piace la musica, magari la musica un pochino elettronica, se ti piace, cosa ne so, anche The Weeknd, eh, bro, seguendo, io seguo, seguendo i blog, o perlomeno le community internazionali, io, bro, sono sempre su, Music Board, che è questa, questa app, dove poi ti aggiorna sui dischi che escono, la gente gli fa le recensioni, la commenta, eccetera, eccetera, poi ci sono altri siti come Rate Your Music, ma io uso molto di più Album of the Year, questo sito qua, spero non sia zoomato, in cui, appunto, ogni settimana, che è tipo Music Board, però Music Board ha un'interfaccia più, più appetibile, comunque, ti riscono tutti i dischi che escono settimana per settimana, ci sono i commenti della gente, vediamo un po', qua la gente, capito, mette la, mette i voti al, al disco, ai brani, agli album, eccetera, eccetera, comunque, oppure, seguo poi anche molto Twitter America, seguo molto Twitter America, soprattutto la Music Twitter, e quindi, alla fine, c'è la gente che parla di sta roba, per curiosità, gli dai un ascolto, oppure, magari, ti piace una roba, una roba figa, per esempio, di sto sito, è che, cosa ne so, tu vai su un disco, sì, chiaro, così mi spoileri la classifica, però, adesso, mi tocca chiudere la live, perché, ormai, la classifica è spoilerata, ragazzi, sì, Morgan Wallen, numero uno, beh, tanto, non sarà più una sorpresa, sì, l'Ana del Re ha droppato quest'anno, un gran bel disco, gran bel disco, esatto, comunque, tu, per esempio, vai in sto disco, ti piace sto disco, dici, cazzo, voglio qualcosa di simile, no, e comunque, ti consiglia, tipo, ti dice i generi, cosa ne so, art pop, io voglio qualcosa di art pop, e tu vai di qua, ti consiglia altri rischi, che sono categorizzati, in quella, quella categoria là, e poi, mano a mano, li ascolti, quando hai tempo, quando hai voglia, e, se ti piacciono, te le, comunque sì, andiamo alla posizione, numero 8, e abbiamo, Sex Money Drugs, di Lucky, questo, non è uno che ho anche recuperato, per bene, uscito a inizio anno, non mi era piaciuto molto, però ragazzi, sto disco ce l'avevo in loop, cioè, c'è stato un periodo, sto disco in loop, io quest'anno poi, mi sono innamorato di Lucky, proprio innamorato, della sua musica, cioè, disco, secondo me, molto underrated, è stato anche, iterato dai fan, però bro, a parte qualche brano, che magari suona ripetitivo, però ci sono, beat, eterei, della madonna, il flow, e il modo in cui, ci sta Lucky sopra, bro, è super addictive, cioè, ti manda in una trance, e, e rimani ipnotizzato, da quella roba, e ci sta, secondo me, devi, devi, devi beccarlo, nel mood giusto, tipo, cosa ne so, anche quando studio, c'è stato un periodo, che magari programmavo, mi piacevo Lucky in loop, perché, ti fa entrare nell'ipnosi, mentre hai musica, in sottofondo, veramente, progetto fighissimo, progetto fighissimo, forse attualmente, è anche il mio preferito, di Lucky. Settima posizione, abbiamo bellissimo, di Green, unico album, questo è uno spoiler, unico album italiane, com'è che odia di più, a me piace un botto, vabbè, poi magari me lo dovrei sentire, però, di quelli che ho sentito di Ariana, era quello che mi piaceva di più, Dangerous Woman, un'arbre del genere, bellissimo di Green, veramente, un disco, che mi ha dato anche questo, un'energia, incredibile, rap, hip hop, old school, ma con il twist, più moderno, diciamo, alla Griselda, come Phil, come Grimeness, fatto in Italia, migliore, in assoluto, siccome è il disco rap, più, è proprio il disco rap, italiano, più figo dell'anno, più figo, migliore, eh, sono pronto a lottare, per questo, ah, ok, ok, sì, sì, quello col coniglio, con le orecchie a coniglio, sì, è veramente, ragazzi, recuperatevi Green, recuperatevi sto progetto, veramente, scorre benissimo, dall'inizio alla fine, eh, produzioni di, Sick, Bad, il produttore di, Silent Bob, veramente, giganti, citano benissimo, eh, un progetto che è, veramente, molto coeso, liriche di Green, super incazzato, eh, super on point, non te le manda a dire, eh, eh, esatto, eh, esatto, cioè, per dire, bellissimo, è quello, che secondo me, dovrebbero fare Enzi e Nerone, cioè, nel senso, anzi, quello che pensano di fare Enzi e Nerone, in Brava Gente, è quello che in realtà fa i Green, in Bellissimo, eh, io poi sono fan di Green, però, veramente, disco rap italiano dell'anno per me, proprio, se parliamo proprio di rap classic, rap, microfono, produzioni, barre, spietato, cioè, poi se ti piace appunto roba grisella, tipo Boldy James, no, Boldy James, no, più Benny the Butcher, io sono fan di Benny the Butcher, mi ha dato quelle vibe là, e poi è figo perché c'ha un, un filo conduttore, e poi non le manda a dire, capito, con l'auta, magari non nomi personali, però, eh, tipo cosa ne so, le, le cose dell'industria, imbarazzanti, tutte queste robe qua, lo stato del rap in Italia, e queste cose te le dice, però che tu dici, cazzo c'ha ragione, oh, cazzo c'ha ragione, minchia, finalmente qualcuno che lo dice bene, e non ti fa le solite banalità, eh, io purtroppo quello di Night, quest'anno non l'ho sentito, è un mio rammarico quello, però ragazzi, se vi piace il rap class, il rap in generale, anche magari quello un po' più classico, che però non sappia, di stantio, vecchio e puzzolente, sentitevi sto disco, che secondo me merita veramente tanto, bellissimo di green, settima posizione, poi, sesta posizione, abbiamo Heaven Nose, di Pink Pantheress, eh, anche questo è uscito abbastanza recentemente, tra l'altro, inizialmente ero un po' dubbioso, ho detto, vabbè, ha un po' middato Pink, però anche questo è un disco, un po' in stile Sex Money Drugs, che più lo senti, e più ti piglia, anche quella, cioè, dei brani veramente fighi al suo interno, come Moschito, eh, e tanti altri, eh, a me è piaciuto veramente tanto, sto disco, mi è piaciuto veramente tanto, forse, boh, non lo so, no, 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 a me è piaciuto tanto, è proprio un disco figo per me, poi, può esserci che c'è un po' di bias, dovuto, eh, Capable of Love, bellissima, bellissima, però è un disco che proprio, tutte le volte che lo sento, dico, cazzo, uno dei progetti più fighi dell'anno, a me piace un bot, cioè, poi mi piacciono, anche rispetto magari agli altri, non lo so, è proprio la mia shit questa, la mia shit, veramente bello, veramente bello, eh, ne ascolto un bel po' ve lo, ne ascolto un bel po', sì, magari ascolto, c'è una roba, c'è una roba che, che mi fisso in un periodo, e poi passo oltre, cioè, e poi ogni tot magari mi ritorna nostalgia, e allora me lo riascolto, però io faccio così, faccio magari a settimane, o bisettimanali, che magari sono in fissa con una roba, oppure due o tre giorni, ascolto quella roba, e poi il prossimo, e poi, passa un po' di tempo, che magari non so cosa ascoltare, che non c'ho una roba che mi prende tanto, e allora ritorno su quello che è, perché non so, anche io non so a voi se vi capita, io mi sveglio la mattina, a volte c'ho proprio delle melodie in testa, cioè, mi sveglio cantando delle canzoni, e allora vuol dire che quella è la colonna sonora della mia giornata, poi c'ho la mattina, una roba, pranzo una roba, e la sera un'altra, quindi, vario anche i mood durante la giornata, e niente, quindi, il disco di Pink Palters a me è piaciuto veramente tanto, ha fatto quell'evoluzione, cioè, non sembra nei primi ascolti, ma più l'ascolto, e più mi sono reso conto di Starbuck, ha fatto veramente un bel progetto, che suona bene, si è evoluta, è maturata, anche quel pochettino che doveva fare, ha craftato delle canzoni veramente belle, super produzioni, è rimasta coerente col suo stile, ma non ha hittato sempre i soliti posti, non è stata scontata e banale, poi a me piace quello stile un po' Garage UK, mi piace molto lei e la sua voce, quindi, bellissimo progetto di Pink Palters, e sesta posizione. Si entra nella top 5, in quinta posizione, cosa abbiamo? Did you know there's a tunnel under Ocean Boulevard, di Lana del Rey, ragazzi, questo è un brano, c'è un brano scusatemi, anche il brano, il mio disco preferito di Lana, veramente, 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 sì, album dell'anno ci sta, per chi è fan, anche per chi non è, è tra gli album più figli usciti quest'anno, oggettivamente, è il mio disco di Lana preferito, a livello musicale, ci sono dei brani costruiti in un modo, cioè bro, mi ricordo, cioè, quasi, mi ha portato quasi alla commozione questo disco, se non alla commozione, tipo, il, aspetta che ve lo do, ci sono brani veramente furi di testa, soprattutto a livello, ecco, questo è un disco invece dove i testi, dove i testi hanno, hanno inciso, hanno inciso, perché è un disco in cui Lana si apre un sacco, sì, no, in realtà non piango, ma perché non mi viene proprio, non mi viene proprio la piangere, le volte che piango, ma in realtà non so neanche la quante che piango, non piango, bella cioppi, bella cioppi, siamo entrati nella top five, no, a me The Grants, The Grants, è quella che mi ha commosso di più, perché, questo sentimento familiare, non saprei, cioè, bisogna fare una live solo su sto disco, comunque, cioè, un disco in cui Lana si apre tanto, è molto fragile, più che altro porta, pensieri, valori, concetti, che umanamente sono veramente alti, sono alti, ma allo stesso tempo semplici, perché sono molto attorno alla famiglia, alla paura di crescere, alla paura di crescere, stare da soli, capito, una donna come Lana che si avvicina ai 40 anni, non so se ne abbia già 40, e ancora magari non ha marito, non ha figli, vede le persone intorno a lei, che crescono e si sistemano, c'è anche la religione, c'è il fatto di essere donna, bla bla bla, un sacco di robe, messi su un piano, cioè, messi su delle produzioni musicali, tra te, cioè, a livello musicale è qualcosa di, veramente di assurdo, cioè, proprio le brani, il disco che mi piace, cioè, mi piacciono, e poi ci sono tra i miei brani preferiti dell'anno, come The Grants, Did you know the result in the land of Russia, Ocean Boulevard, bellissimo, A&W, è uno dei miei brani preferiti, ragazzi, ecco, se non sapete cosa ascoltare il suo disco, ascoltatevi A&W, prima, sono sette minuti di brano, la prima metà, sopportatela, e poi vi prometto, ci sarà una bella sorpresa, dico solo che Lana, io quando l'ho ascoltato ho detto, bro, Lana è andata in Jesus mod, Jesus di cani, eh, quello Jesus là, io infatti vorrei andare al concerto di Lana, solo per moshpittare ad A&W, ma poi vabbè, non dico altro perché, non c'è solo quello nel brano, però è, veramente, veramente figo, e poi ci sono tanti altri, bei dischi, tanti bei brani come Fingertips, Paris Texas, fantastico, questo sulla, con questo titolo, molto Lana, e via, veramente, bello, 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 disco bello, 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 veramente bello, bello, mi disco preferito di Lana, veramente un disco potente, potente, quarta posizione ragazzi, quarta posizione, abbiamo Fountain Baby di Amari, adesso ragazzi, è in se la basataggine, abbiamo Fountain Baby di Amari, Amari lo stesso è un artista ragazzi, non saprei neanche definire, se dire afrobeat, perché lei è mezza afro, adesso vediamo, adesso vediamo, lei è mezza afro, però è anche mezza americana, ragazzi, non so come spiegare, cioè, non saprei veramente come cazzo spiegarlo, sto disco, perché è veramente qualcosa di assurdo, è immacolato, è banger, è afrobeat, è angelico, è estivo, è veramente stato uno dei dischi, che più mi ha elettrizzato quest'anno, è uno dei miei dischi preferiti dell'anno, prima era forse pure in posizione 2 o 3, poi ci sono stati altri dischi, è veramente, è, porta l'afrobeat, e tutta questa roba, a un livello artistico, veramente, bro assurdo, poi lei ha una voce stra particolare, torniamo nella top 3 ragazzi, top 3, top 3, vediamo cosa c'è in top 3, vediamo un pochettino, vediamo un pochettino, terza posizione, abbiamo, If Lux Cold Kill, di Destroy Lonely ragazzi, allora, parto raga, che, per tutto l'anno, quale disco mi ha scioccato, oddio, boh, Wella The Red, tutti, Don't Die, 808 Hardbrake, quando l'ho capito, i miei album preferiti alla fine, e via, Il Flux Cold Kill, di Destroy Lonely, terza posizione, tra l'altro, per tutto l'anno, è stato veramente in basso, perché alla fine, io, ero abbastanza anche deluso, di questo disco, però ragazzi, è stato il disco, insieme a quelli sopra, su cui di più, sono tornato durante l'anno, è un disco, purtroppo, imperfetto, con molti problemi, che però, bro, ha, ha un sound, tolte le tracce filler, comunque, c'hai un bel disco, di 18, 19, 20 tracce, anche 17, se vuoi tagliare ulteriormente, di tracce, veramente belle, che scorrono, veramente bene, Destroy Lonely, ha portato un sound, che a me, mi ha, mi ha stregato, anche questa roba, non so come dirlo, tipo, la batteria militare, non so come dirlo, vabbè, eh, questo, poi Destroy Lonely, è stato l'artista, che più mi sono sparato, quest'anno, un disco, che appunto, era molto basso, in classifica, inizialmente, ma che rifacendola, nell'ultimo mese, soprattutto, in uno o due mesi, eh, ragazzi, è un disco, su cui sono tornato, veramente un botto, i cui brani, ho ascoltato, veramente a profusione, eh, per forza, cioè, come, allora, un pochettino, poi ha fatto una deluxe, dove ha accettato, dei brani, tanti, cioè, Fluss Cool Kill, la prima, cioè, c'è stato un periodo, cioè, poi, eh, Fluss Cool Kill, la title track, è stata la roba, che mi ha fatto, anche appassionare a Opium, eh, se ero andato a Milano, appunto, perché l'ho sentito, poi, Fluss Cool Kill, poi mi era ascoltato, tutto uno stylist, veramente, mi ha, accompagnato, per un bel po' di tempo, però, però, ci sono una serie di brani, ma anche poi, cioè, ci sono un po' di brani, schippabili, però, poi qua, c'è una strike, di nuovo, New New, Right Now, Which Way, One One, Moment of Silence, è figa, lo stesso, Brazy Girl, Going Up, Passenger, poi ci sono un po' di skip, però, veramente, bro, a me è piaciuto, mi aveva deluso molto all'inizio, perché era partito, con questa strike, delle prime quattro, poi aveva un po' cambiato, però, forse, di ascoltarlo durante il run, ragazzi, cioè, a me è piaciuto, tanto, cioè, bellissimo, cioè, più che altro, l'ho ascoltato veramente, un bo', è finito qua, perché l'ho ascoltato veramente, un botto, e via, bella Rocky, siamo, siamo in chiusura, brother, siamo in chiusura, stiamo arrivando, siamo alla top 3, ho appena parlato del mio terzo posizione, non so se puoi vederlo, però, il Flush Cool Kill di Restore Lonely, eh, più controversa, però, bro, cioè, me lo son pompato e basta, me lo son pompato e basta, seconda posizione, abbiamo un disco, che mi sono pompato, tanto quanto, forse anche di più, di, il Flush Cool Kill, ma che, è fatto, è più conciso, è studiato, è strutturato meglio, è clamoroso, per me, ed è, schnot or not, della Homicide Gang, cioè, bro, anche sto disco, è, è stato un po' come, un mix tra i Flush Cool Kill, Mention Music, ovvero, che me lo mettevo, cioè, durante il corso dell'anno, a periodi, ce l'avevo in loop, eh, lo sono ascoltato, veramente a profusione, è uno dei miei dischi preferiti, Opium, cioè, ci sono dei, proprio come progetto di per sé, mi mette in una vibe, assurda, poi ci sono bro, dei banger, incredibili, come i DHD, o, vediamo, cioè, Fire, cioè, secondo me, è uno dei beat, come fa schifo, no, a me, a me piace, per un bel periodo, sono stati anche tra i miei preferiti, poi mi sono innamorato di Lonely, però secondo me sono fortissimi, la Homicide, c'è bro, più che altro c'è una beat selection, in questo progetto, che a me, esatto, ascoltato in live, sì, sì, nel video ci sono, ci sono, c'è una beat selection, veramente della madonna, e poi le performance, sono veramente, carine, cioè, non fanno poi alla fine niente di crazy, però quello che fanno, lo fanno bene, ed è super intoxicating, anche, poi ci sono anche brani, magari un pochino più chill, tipo Flights Bookhead, o, adesso non mi ricordo quale, Once and Needs, che, che picchiano fratello, cioè raga, a me è piaciuto veramente un po', cioè un disco, non ho molto da dire, se non che mi ha gasato di brutto, mi ha sempre preso stra bene, mi ha caricato, mi ha fatto prendere, mettere sempre un mood, un bel mood, l'ha ascoltato proprio a profusione, super intoxicating, ed è stato proprio il disco, che è proprio detto bro, cioè, eh, drogato di questo disco, e quindi, per forza sta qua, in questa posizione, seconda posizione, poi no, lo stesso, non è che abbiamo molto da dire, cover, tra l'altro, figa, che è una foto di, Taylor Swift, tutta presa e modificata, Homicide, Eh, ci sta, ci sta Lucio, ma se vuoi, se vuoi seguire sto canale, ma Lucio, non so se stai nel gruppo Telegram, oppure se poi mi vuoi seguire su Instagram, e poi ragazzi, dico, se chi vuole, se c'ha il Prime libero, se lo vuole buttare di là nel canale, se vuole, per supportare, ti mando veramente, un grande ringraziamento, con tutto il cuore, Ah bella, allora scrivimi, se vuoi entrare nel gruppo Whatsapp, Lucio, ti mando il link, così, eh, Lana del Re, a me è piaciuto molto, eh, è piaciuto molto Lana, è piaciuto molto il disco di Lana, eh, se vuoi entrare nel gruppo Whatsapp, parliamo anche un po' di questi generi, io ne parlo abbastanza, diciamo, eh, anche in altri gruppi, e niente, e quindi, e quindi, niente, quindi, questa è stata, la musica che più ho ascoltato, quest'anno, più ho ascoltato, aspetta perché mi sta impazzito, come, prima posizione, ragazzi, cosa ci sarà mai, cosa ci sarà mai, secondo me, molti ormai l'avranno indovinato, secondo me lo sapranno, eh, è strano a farciarsi, alla posizione, eh, la quarta posizione è clamorosa, eh, rullo di tamburi, prima posizione, ole, let's start here, di Leiyachi, ragazzi, questo è uscito, inizio anno, è il disco che quest'anno, mi ha fatto, mi ha dato più, emozioni, in assoluto, cioè, eh, è un disco che innanzitutto, mi ha, mi ha fatto fare, anche ecco, questo è uno dei dischi che mi ha scioccato, ed è entrato subito, dopo uno o due mesi, è entrato subito, proprio nei miei dischi preferiti, di sempre, cioè questo, il disco di Leiyachi, è uno dei miei dischi preferiti, di sempre, eh, ha proprio, questo switch di sound, poi fatto in modo, così, bello, l'album che scorre veramente bene, è un viaggio diviso in tre fasi, ci sono anche qua, ah, sei su whatsapp, come ti chiami la luce su whatsapp? ah, magari ma non scrivi tanto, eh, ancora non mi sa, dopo esatto, poi, per Leiyachi è stato veramente un anno incredibile, io ero stra fan di Leiyachi, ai tempi, alle superiori, quando, nel suo periodo, quando è uscito Lil Bot 1, Lil Bot 2, ero ultra fan, tutta quella wave colorata, poi è fellato off, ha iniziato a fare rap, voleva fare il rap per più serio, da lì l'ho perso totalmente, perché non mi stava più piacendo, si è totalmente ripreso quest'anno, è un disco che mi ha dato emozioni veramente, veramente forti, il viaggio di Leiyachi, anche un viaggio personale, no, perché come, questo disco è un po' come il viaggio anche personale, che lui ha vissuto, nell'intraprendere questa rinascita artistica, ma anche personale, quindi c'è la prima parte confusionaria, poi c'è il, 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 un viaggio in un trip, e poi, ritorni di nuovo nella luce, disco della madonna ragazzi, veramente un disco della madonna, questo è il mio album dell'anno, sentito inizio anno, in loop, più di qualsiasi altro disco, e poi sul quale sono ritornato sempre, 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 ogni volta, anzi, ogni volta trovavo qualcosa di nuovo, qualcosa che, dicevo cazzo, senti qua, questa cosa non l'avevo sentita, questa cosa non l'avevo colta, eccetera, eccetera, ci sono i brani più figli, quest'anno come Say Something, Should I Be, del ride, il primo brano, e via, eeeh, cioè oddio, con la, no, qua sta cappando, sta cappando, oddio, la copertina che a me inizialmente faceva cagare, ma per il concept del disco, e per come suona il disco, invece ci sta molto, secondo me, sta molto, quindi, questo per me è stato il disco dell'anno, adesso mettiamoli un pochettino, eh esatto, è ambiguo, perché, ti inambiguisce un po' come fa, eh, l'anno prossimo solo è in music, sicuramente, questa è la classifica, un pochettino più, un pochettino più chiara, ok, così vediamo anche un po' tutti i dischi in generale, e via, diciamo la top 12, top 10 è quella più strong, altre cose a periodi magari sono anche un po' interascambiabili, però questi sono gli album che, più mi sono piaciuti quest'anno.